I carabinieri sono in grado di intervenire su un criminale armato di coltello a mani nude? Andiamo a vedere in questo video degli interventi molto particolari. Sono Manuel Spadaccini e ho fatto della difesa personale il mio lavoro. Grazie alla mia esperienza nell'arma dei carabinieri e poi all'estero ho capito che per difendersi non serve solo muovere le mani, ma occorre saper usare la testa prima dei muscoli. Come fare? Te lo spiego in questo canale. Benvenuto nella difesa personale e professionale. Stay safe! Qualche tempo fa, se vi ricordate, ho pubblicato e abbiamo analizzato insieme un video di un intervento su un criminale armato di coltello effettuato dagli agenti della Polizia Penitenziaria. Un intervento veramente, veramente spettacolare che è piaciuto a moltissimi di voi. Se volete vederlo, per chi non l'avesse visto, è qua. Oggi però voglio giocare in casa. Come sapete, provengo dall'arma dei carabinieri e voglio portarvi degli esempi di interventi da parte appunto di operatori dell'arma su criminali armati di coltello. Non pensate che sia semplicemente vedere il video finita lì. No, perché questi video io li utilizzo quando vado a fare appunto formazione alle forze dell'ordine come esempi di intervento facendo vedere strategie, metodologie, dinamiche eccetera. E la stessa cosa la porterò a voi. Quindi quando vi mostrerò i video vi farò vedere anche alcuni aspetti che magari, anzi molto probabilmente, non avreste notato. E di conseguenza d'ora in poi imparerete a valutare in maniera particolare e tecnica gli interventi dell'arma dovesse capitare appunto di vedere video o perché no anche dal vivo. Ma non solo. Al termine di questi due video ve ne inserirò un terzo che invece è stato girato negli Stati Uniti. In questo modo potrete valutare le differenze di intervento da qui in Italia per gli operatori dell'arma dei carabinieri con operatori invece statunitensi. E poi a voi ogni conclusione. So già che molti di voi pensano, eh sì ma di fronte a un armato di coltello io vado lì con l'arma da fuoco, gli sparo e basta, finito, pure uso il taser eccetera. Attenzione perché per quanto riguarda il taser non sempre è in dotazione alle pattuglie perché quindi il taser ce l'hanno solo alcuni operatori e di conseguenza se non ce l'ho non lo posso usare. E l'arma da fuoco è sempre una soluzione letale. Quindi andiamo a vedere quello che può essere fatto con successo addirittura a mani nude su un soggetto armato di coltello che lui sì ma potenzialmente può togliere la vita agli operatori perché un coltello è un'arma letale. Non perdiamo tempo, andiamo a vedere subito il primo intervento. Eccolo qua, una pattuglia di due operatori ha a che fare con un soggetto squilibrato che brandisce un coltello. Anzitutto andiamo a osservare come si posizionano questi operatori perché si stanno mettendo nella corretta triangolazione. Facciamo un fermo immagine, andiamo a vedere la posizione di entrambi gli operatori che appunto è disposta, il manuale vorrebbe 130 gradi tra loro. Che cosa significa? Sostanzialmente è imperativo quando si ha a che fare con un soggetto ostile in questo modo non rientrare nello stesso campo visivo contemporaneamente. Ossia anche se può venire spontaneo gli operatori e piazzarsi davanti per cercare insomma di calmare la persona trovare la quadra della situazione, questo non va affatto perché se gli operatori rientrano contemporaneamente nello stesso campo visivo il criminale li può tenere sotto controllo, può addirittura affrontarli e gli operatori perderanno l'effetto sorpresa perché lui li continua a vedere. Al contrario questa disposizione invece consente agli operatori di lavorare nella maniera ottimale. Il criminale infatti o guarda uno o guarda l'altro non può guardarli contemporaneamente. Di conseguenza un operatore avrà sempre il fattore sorpresa quindi potrà sempre intervenire di nascosto, alle spalle o comunque sia sorprendendo il criminale e l'altro operatore sarà incaricato di intrattenerlo in qualche modo di dialogare con lui. Quindi la triangolazione è stata portata perfetta. Un altro motivo per cui si porta questa triangolazione è perché nel caso estremo gli operatori siano chiamati a estrarre l'arma da fuoco e a esplodere qualche colpo non si dovranno preoccupare della posizione del collega perché non si troverà mai nella linea di tiro. Ora, avendo visto la disposizione perfetta da manuale andiamo avanti e vediamo che questo criminale continua appunto come vedete parla con uno, parla con l'altro ma non riesce ad averli contemporaneamente nel campo visivo. A un certo punto si fissa, insiste, sull'operatore qui sulla destra. Ecco che vediamo che cerca di avanzare, l'operatore cerca di calmarlo ma a un certo punto la distanza è così vicina che, ecco qua, decide di intervenire. Applica una tecnica che deriva dallo judo, viene chiamata osoto gari è praticamente una spazzata per portare a terra il soggetto stile. Eccolo qui come funziona. In sostanza un braccio va a dedicarsi alla parte alta del corpo abbiamo anche un'attenzione al braccio armato e la gamba va a applicare uno sgambetto, chiamiamolo così, una spazzata per far perdere l'equilibrio e portarlo a terra. In questo modo l'operatore è andato a controllare il braccio armato ormai era così vicino che ha potuto giocarsi questa carta e portando a terra il criminale il secondo operatore ha avuto la possibilità vedete questo sollevamento del piede, della gamba che voi va a pestare in terra? Ecco, molto probabilmente ritengo che venga fatto sul braccio armato. Qui possiamo rivedere la situazione, ribaltamento e poi il collega che arriva colpo sul braccio armato per bloccare e impedire durante la collutazione che il collega venga ferito. La priorità viene sempre data all'arma perché è la cosa più pericolosa in quel momento che il criminale può usare. Immaginate essere voi in quel momento ad avere una sola chance perché così vicini se andate ad applicare una tecnica vi sfugge di mano perdete l'equilibrio, lui si divincola sbagliate la tecnica perché siamo umani può accadere insomma avere una sola chance e sapere che ora va o la spacca non è così semplice quindi un conto è vedere il video qui dal monitor un conto è essere lì davanti e dire adesso tocca a me quindi intervento favoloso, perfetto prima la triangolazione hanno applicato questa strategia dopodiché appunto gli operatori hanno deciso di intervenire e ovviamente lo fa magari quello dei due che ha più dimestichezza nel combattimento in questo caso è andato a buon fine osotto gali, tecnica di giudo, si va a bloccare a terra, si blocca l'arma e la situazione è messa in sicurezza anche nel rispetto del criminale perché vedete che comunque non ha ricevuto alcun tipo di pallottola nel petto non ha ricevuto alcun tipo di problema quindi veramente chapeau fatemi già sapere voi qui nei commenti nel frattempo cosa avreste fatto perché insomma magari ci sono delle tecniche o comunque delle strategie che voi avreste applicato nel secondo video che andremo a vedere tra pochissimo siamo presso un distributore di benzina c'è uno squilibrato che sostanzialmente sta minacciando con un coltello i presenti a qualcuno chiede le sigarette, a qualcuno chiede i soldi insomma va fermato arriva una pattuglia e andiamo a vedere che succede eccolo qua siamo di schiena rispetto al criminale fermo un attimo il video perché vi voglio spiegare un concetto importante che è quello che spiego anche agli operatori quando li formo anche qui lavorare per istinto cioè immaginate di avere un criminale e magari di andare lì e dire oh tu fermo cosa stai facendo che cosa farebbe questo? si gira verso di voi avete perso la carta sorpresa e dovrete affrontare una persona che ormai vi ha inquadrato vi ha visto, è armata insomma potrebbe essere peggiorata la situazione invece il vantaggio enorme quando siamo alle spalle è appunto lavorare di sorpresa e poi gli arti e quindi le armi che può utilizzare che siano pugni, bottiglie rotte, coltelli, siringhe o altro sono poste dall'altro lato perché se noi lo gradiamo di sorpresa dalle spalle le armi e la parte pericolosa è dall'altro lato non potrà essere usata immediatamente verso di noi per cui eccolo qua che cosa succede l'operatore entra e conduce a terra lavorando di schiena rivedendo la scena vediamo un braccio va a agganciare il collo del criminale e il secondo, quello che sta impugnando il bastone in gomma lo va a bloccare nella parte armata da qui una rotazione perfetta lo porta a terra ma guardate come si posiziona l'operatore una volta a terra guardate la posizione delle gambe come sono allungate e come è perfetto nel carico del peso questa è una posizione tecnica non certo spontanea quindi ci fa capire che l'operatore ha una dimestichezza nel combattimento a terra forse proviene dallo judo forse pratica brasina jiu jitsu comunque sappiamo che è una persona esperta nel combattimento vedete posizione, carico completo sul corpo del soggetto stile gambe distese, perfetto anche poi nella rotazione qui la telecamera si sposta un attimo va a vedere che il collega è in estremo ritardo ma arriverà anche lui e poi vediamo appunto questa rotazione sul soggetto stile non c'è mai un attimo in cui solleva il corpo da lui ha sempre una pressione costante nella rotazione nell'andare poi in monta sopra e andarlo a gestire nella maniera più completa rivediamo la scena eccolo qui lo si va ad agganciare rotazione a terra carico del corpo su di lui e poi rotazione petto su schiena stretto e pressato fino ad andare a conquistare la posizione sopra di lui quindi anche qui movimenti che non sono certo spontanei ma derivano da una ottima formazione apro una parentesi per altre due persone qui uno è il soggetto che sta bloccando i piedi del criminale anche qui mi fa pensare che questo sia una persona esperta che abbia già fatto questo tipo di movimenti magari anche un operatore in borghese o un ex operatore non lo posso sapere però vedete che come gestisce le gambe a terra quindi il lavoro che va a pressare aver chiuso la gamba all'interno del ginocchio del soggetto va a lavorare in pressione sul piede anche questo non è movimento spontaneo è una posizione che deriva da un'esperienza personale anche perché appunto è una posizione che insegno anch'io agli operatori per cui mi fa capire che è uno del mestiere ottimo il controllo delle gambe ha fatto benissimo ad aiutare il carabiniere e poi mi fa sorridere questa ragazza che sta facendo benzina e continua a farla guarda la scena come niente fosse come diceva tutti i giorni queste scene qua io vabbè comunque sia meglio così che ha mantenuto la calma se è gustata una scena da film e magari stasera lo racconterà qualcuno comunque mi ha spezzato vederla così anche qui immaginate di essere voi l'operatore in questione che a quell'attimo che deve entrare in silenzio e di nascosto velocemente per andare a giocarsi l'unica carta disponibile per lavorare a sorpresa non è semplice perché ripeto un conto è vedere in un monitor una scena un conto è essere lì noi col cuore che batte a mille di adesso devo entrare devo avere una coordinazione precisa avrò una chance sola o la va o la spacca quindi ragioniamoci e pensiamo insomma quanto può essere impegnativo un intervento del genere one shot anche qui quindi grande preparazione degli operatori ottimo intervento mi viene da pensare ma è veramente così come si dice che i nostri operatori non sanno fare nulla e invece sono bravi quelli all'estero gli americani sì che si sanno fare eccetera eccetera oppure i nostri operatori sanno lavorare e sanno lavorare anche con una caratteristica molto importante lavorano nel rispetto della vita umana perché lo stato italiano pone la vita umana anche se è di un criminale sopra qualsiasi cosa e i nostri operatori sono chiamati a rispettare questo dogma sono chiamati a lavorare magari anche rischiando di più loro stessi pur di salvare la vita anche di un criminale in quel momento ci piace? non ci piace? fatemelo sapere nei commenti come la vedete voi questa cosa però sappiamo che è così e un operatore a forza dell'ordine quando fa un giuramento giura di rispettare la volontà delle istituzioni di proteggere le istituzioni significa di adeguarsi a quello che le istituzioni vogliono pertanto ragazzi ancora di più chapeau per i nostri operatori che sanno fare veramente i numeri e credetemi che i nostri operatori all'estero sono ammirati proprio per questa capacità di lavorare nel rispetto della vita umana che non è assolutamente scontato adesso però andiamo a vedere un intervento simile soggetto ostile resistente armato di coltello di fronte a un operatore degli Stati Uniti e poi traete le vostre considerazioni preferisco come lavorano in Italia come lavorano negli Stati Uniti insomma fatemelo sapere nei commenti e ora andiamo negli States come here come here come here you you're jaywalking now who are you get over here what country is this someone I need cover come here no come here no we're not playing this game dude I'm not playing this game either you're jaywalking you're throwing rocks who are you officer hall at the damnville police come over here authority of what no you're fucking touching me touch me and see what's up touch me and see what's up drop the knife drop the knife drop the knife tom one shot's fired tom one suspect down code 3 medical Camino Ramone Sycamore Valley I need all additional units